Musica Ad essere qui questa sera a onorarci della sua presenza ancora bellezza, classe ed eleganza Attrice, giornalista, contruttice televisiva Tra l'altro ho saputo che lei in passato ha anche presentato questo evento importante Certamente, sì, quindi insomma sarà un po' un ritorno a casa E mi fa piacere ritrovare il mio caro amico Mario Esposito Che sempre con grande tenacia, con grande lealtà Riesce a mandare avanti un evento prestigioso come questo È bello vedere il teatro pieno Ed è bello appunto ritrovarsi con tanti amici artisti in questo caso La ringraziamo vivamente, onoratissimi, benvenuta Grazie